E ragazzi, come va? Io sono Fereniki Io sono Stefano e questo è G.M. Escape del Titanic Ebbene sì, siamo finalmente tornati con i nostri escape Questa volta dovremmo fuggire dal Titanic che affonda Non è una bella cosa, però vabbè, giocheremo così L'incubo di Fereniki è giunto Esatto, guarda, io lo dico sempre Se dovessi affondare con una nave e ritrovarmi in mezzo agli squali, all'oceano e tutti i pesci incredibili del mare Preferirei morire, cioè non vorrei neanche provare a scappare e rimango lì E visto che l'hai già raccontato dieci volte, potevi evitare di raccontarlo per l'undicesima volta No, le racconto i consolini, perché poi ci sono alcuni che magari si sono persi il video, non lo sanno E quindi io giustamente non devo ricordare Buono per i consolini che si erano persi questa triste storia Sì, perché è una notizia molto importante Basta Comunque io volevo dire che questo è uno degli escape più belli che abbiamo mai visto a livello di immagini e di cose varie Non l'avevamo mai portato semplicemente perché non credo che sia da un singolo episodio È tipo una miniserie da tre episodi, tre, quattro episodi circa E quindi non l'avevamo portato al tempo per questo motivo Però siamo pronti a farci una miniserie e quindi partiamo In effetti non l'abbiamo mai fatta negli escape, quindi perché no? Esatto Perché non iniziare con il Titanic, che giustamente la fuga deve essere bella lunga È molto bellino, preparatevi Vabbè qua ragazzi ovviamente la storia del Titanic la conosciamo tutta Il Titanic era in giro, sbatte su un unicorno gigante Non era proprio così E inizia ad affondare Non era proprio in questo modo Dovresti prenderla seriamente perché è un evento molto tragico, capito? Questi non sono unicorni che dormono No, sono iceberg che ci uccideranno tutti Ok Non farei la meno drammatica È vero che ci uccideranno tutti Guarda, vedi, adesso abbiamo appena preso tutta la fiancata con l'iceberg Che cos'era questo? Attenta coi dialoghi perché Ma bellissimo, è in italiano pure Fantastico Non è proprio italiano Diciamo che Ah ok, va bene Un po' di bigotto Astro bigotto Una lingua sana Cosa stai dicendo? Volevo dire, è bizantino E invece mi è uscito bigotto Che non c'entra nulla E lo so Dici parole che non c'entra nulla Comunque stiamo nella nostra scaviglia Mi hai contagiato Colpa mia, eh Certo, certo, certo Non sa più parlare La nostra cabina Ok E dobbiamo fuggire perché adesso ci arriva l'acqua alle caviglie Esattamente Allora, io credo che queste finestrelle che vediamo qua Sono semplicemente gli spazi per gli oggetti E stavo per dirti Sicuramente la porta sarà chiusa E invece è aperta Infatti tutti che scappano a gambe levate Mi sono rimasto male Pensavo di dover esplorare qua Sono riuscita ad arrivare fuori A qui Ok Traduzione fuori Fino a qui Fino a qui Ok Allora, quindi dobbiamo trovare il modo di passare in mezzo alle persone Grazie per la pubblicità Ci voleva a inizio video Allora Per distrarti dalla tragedia Ti smortano con un po' di pubblicità Ci sta, ci sta, ci sta Ok, dobbiamo spostare persone Scusate Pam Noi siamo gli ingegneri Qua sappiamo fare tutto Fateci vedere cos'è che non funziona Eh, non so Gira Sì, non gira Così Vedi Così No, allora Devi fare bene il movimento rotatorio Così col polso Ahah Così Allora Perché non lo stavo facendo Vero Finito il Titanic Non si può scappare Chiudi il video Dai, facciamo finta di Escape più difficile di sempre Non se ne ha accorto nessuno Chiudi il video, dai Beh, se non lo pubblichi non l'ha mai visto nessuno Basta fare così Ah, ma dovevamo tenere giù la maniglia E girare E girare Vabbè, però non ha senso Giri prima Lo so Lo so Allora, qua siamo in un punto importante Vedi, ci sono dei fili giù Eh, sì Della corrente Ah, quindi io ho acceso la luce Senza neanche accorgermi Eh, ok, bravo Quindi, qua cosa dobbiamo fare? Dice Power routing station Eh, ah, vedi? In basso a destra Eh, sì, l'ho visto Però non riesco a dargli un senso No, certo che Allora, guarda Guarda, adesso ti faccio vedere Ok Come funziona? Ah, certo Ah, ecco E allora facciamo la prima fila Ascoltami, ascoltami Ho capito tutto La prima fila Quello di così al centro Bisogna seguire questo schema, logico Però il primo lo devi mettere al centro Hai capito? Ah, devi fare gli affetti Gli affetti Gli affetti Gli affetti tuoi Allora Ti sto affettando Il primo devo fare così Esatto Ok Poi questo lo sposto così E questo lo sposto così Poi fai il contrario Perché devo stare giù Poi faccio il contrario Esattamente Devi fare una X sotto Eh, infatti è quello il mio discorso Come faccio una X Allora Non lo puoi spostare in questo buco Che è rimasto libero? Qua Qua io lo vorrei mettere Questo Qui In quel buco Invece non lo fa mettere, vedi? Facciamo così Ok Devi spostare quello di sotto sopra Ho capito quello che vuoi dire Esatto Ok Fatto? Bravissimi, sì Yes Abbiamo dato potenza Quindi ora sicuramente qualcosa sta funzionando In questi macchinari Che non so quanto possa servire No, 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 no Stiamo salvando il Titanic Magari non lo sai Ma qua cambiamo la storia Proprio perché la stiamo giocando noi Non credo Che ci fossero stati Steph e Ferinichi Come sarebbe andata Non dirlo Malissimo Malissimo Saremmo morti entrambi Avremmo fatto una figuraccia Ok Vedi che c'è tutto bagnato Con i cavi Ma non ci potevamo limitare a scappare Ecco Cioè nella scialuppa Come tutte le persone normali Di questo No No No, 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 no Dobbiamo Dobbiamo fare gli eroi qua Certo Certo, certo, certo Dobbiamo capire Tutta la strada Da fare È ok Quindi Come fai a capirla scusami No Guardando dove fa la scossa E dove non la fa Ah ok Allora ci sono Ci sono Vai Pa 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 No Pa ra pa ra pa 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 Hopla Non di nuovo Allora stavolta io la prendo E si gira Allora fai la stessa tecnica Abbassa la maniglia E gira E gira tutto Non si abbassa neanche la maniglia Vedi Davvero E credo di dover smontare la porta Quindi questa volta era giusto Che non funzionasse Ah ok Una E vista che bravo Che sono a svitare Sì tantissimo Opla Adesso lo faccio anche qui Quindi tacete Tacete Smontiamo tutto E abbiamo aperto la porta Ottimo Comunque A livello di animazioni e di grafica Sta a un altro livello No è uno dei migliori Sì Oh no Sì sì È davvero bello come è fatto Andiamo 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 Ecco qua Allora Prima di tutto prendiamo questo oggetto Pubblicità Ok Pensavo fosse esploso qualcosa Anch'io Ah no ok No stai alzando l'acqua Stiamo affogando Prova a fare qualcosa Tappa qualcosa E che faccio Non lo so Ah sì dovevo togliere tutto Dannazione Veloce E adesso Non è servito a nulla vero No Tolgo tutto Ok Ok E chiudi la porta Perché se no entra l'acqua Esatto Continua a entrare Quindi provo a usare questa manopolella No no E allora Chiave inglese No No dai Come si può fare Perché entra lo stesso È quello Ah forse devo Anche girare Prova Eh lo sai che Girare Eh lo so Ma stessi siamo disperati No Non dirmi che adesso Sei riuscito a chiudere la porta Io non ti rivolgo più la parola No 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 Tutto a posto Tutto a posto Non siamo rimasti Due minuti a fare una cosa inutile Perché non riuscivo a girare No 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 Ti sbagli Esatto Non hai visto nulla Da che parte devo andare Guardi No Ho già visto C'è un labirinto Hai visto Ho preso la corda Allora E adesso E adesso si fa così Allora noi siamo qui Pi 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 Sbagliando strada È chiuso Piri pi 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 Quando canto questa canzoncina Riesco sempre a sbagliar Era anche giusto all'inizio Proprio che ti sei un attimino Sbagliato totalmente Ok Vai prova da questa strada sotto È lì Bravo Così Ehm Vai qui sempre a sinistra Qua Sì continua Continua E vai verso l'alto poi E c'è l'uscita Opla Ottimo Oh yes A livello di difficoltà Devo dire che comunque è sempliciotto Vero? Non lo so Perché per certe cose non so Non voglio cantare Vittoria Eh però Non sono proprio intuitiva E poi ricordati sempre che siamo ai primi livelli No 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 Scusate non era semplice Stavo scherzando I guanti Stavo scherzando Eh sì sto usando i guanti per tappare Vedi Le sto tappando io È ok però qualcuno le dovrebbe anche aggiustare Mi serve un piano Tu pensa a qualcosa Viene mentre continuo a tapparle No vabbè Cosa va fatta per poi Wow Finito? Sì Ok Con i nostri guanti magici Siamo riusciti Che più che pensare di proprio reagire così distinto Allora bagagli Prima classe Seconda classe Terza classe E pubblicità Eh però se pubblicità rovinano un po' l'atmosfera del titanico Eh sì sì Qua bisogna mandare una recensione da una stellina Per farglielo capire Sto scherzando Prima classe Seconda classe Terza classe Eh Ok Cosa dobbiamo fare con prima classe Seconda classe Terza classe Spostare i bagagli Ha indicato che è troppo pesante Quindi noi vogliamo le cose da ricchi Allora Adesso facciamo il dispetto Di mettere le cose da ricchi Capito Nel terza classe Quindi mischiamo tutti i bagagli E così non va Non posso buttare giù delle cose Giusto È solo un puzzle Aspetto Ho capito Vai Secondo me Allora Vedi che alcuni sono più belli Alcuni più brutti Quindi probabilmente Quelli rossi In prima classe Perché sono bagagli belli Ok Quelli blu In seconda classe Perché sono bagagli E gli scatoloni In terza classe È un po' brutto da dire Però Ok Ah e quindi è soltanto un puzzle In questo senso E beh perché altrimenti Per il peso Non gli trovo Non gli trovo altra soluzione Però vedi già Così ti stai intrippando un sacco Quindi mi sembra giusto Sì potrebbe essere Che sia fatto così Ta 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 Opla Yes Bravissima Grazie 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 Mi piace mi piace Sono casato Sono casato Ti diverti un po' a questo gioco Ti ho detto che ti do una semina Più tardi basta Allora forse più tardi Dai se mi tratti bene Sei migliori Sei migliori No è bellino però Sì 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 Lo so lo so Devi rimanere semplice Se ci fai cose troppo complicate Una stellina secca Da tutti i consolini E va male Perché i consolini sono tanti Quindi Io non vorrei minacciare Guarda che poi lo fanno Quindi smettila Non mettere cattive idee Ai consolini Allora cosa dobbiamo fare adesso? Raccogliere quella cosa Che c'è in terra No anche io Ci ho già provato dieci volte Cara mia Però posso provare La chiave inglese? No No A tirare giù quelle rotelle? Qualcosa del genere? Allora Ci hai messo un pezzo di corda Ci hai messo sì E come la tiriamo Adesso basta fare così Aspetta Ho visto No lo devi far passare Nelle altre rotelle Per distribuire il peso Capito? Così? Sì No E allora devi farle tutte Tipo Ta 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 Esatto No E allora non è la soluzione giusta Ascoltami Prova queste No ascoltami Prova queste tre Così dritte E poi vieni quelle due sotto Cosa? Beh allora Ah così Ah così Tata Eh no capito Hai capito però? Sì Dammi un attimo Tieni Da dove inizia? Dal basso o dall'alto? Da dove vuoi vai Ah ok Tipo così Così È così È così L'ho fatto quindici volte No non l'avevi fatto così Ma con che occhi guardi Che l'ho fatto duemila volte Comunque ti fa vedere L'animazione di dove si spacca Quindi dove prende troppo peso Adesso si è spaccato là Ah Faccio le cose Bello 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 vai Sì Peccato No e allora E allora è farloco Non funziona Dici? Sì È guasto Ogni volta che provi una cosa tu Si è guastato E non funziona Come devi prendere quella cosa sotto? Basta con incollato Sono bloccato Non incollato Gioco del cavolo Non traducete il giochi Se non lo sapete fare Ce l'ho fatta Ma come l'ho lasciato io Scusami No no l'ho modificato Non l'hai fatto tu Non l'hai toccato nulla L'ho modificato È perché hai sbagliato cliccando su incollato Anziché bloccato Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo Secondo me dobbiamo bloccare questa corda Ah certo Ah ecco Sì E poi? Ah devi far il G E vabbè Vai 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 Bravissimo Funziona? Fatto? Suppongo di sì Vado? Sì andiamo Oh yes Non potevamo scavalcarla Stai peperini e chi va davanti Non potevamo scavalcarla No Ah no Dobbiamo pure aggiustare No questo non ci piace No 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 Chi chiudiamo? Sì Chiudo Va bene Io chiudo Andiamo a pixel gun Sì Va bene Adesso gioco Tu stai ridendo Ma io adesso gioco a pixel Ma come siamo burloni eh Allora visto che dobbiamo fare delle addizioni probabilmente Lo lascio fare a Ferinichi Anche perché è l'ultima cosa che facciamo E poi ci fermiamo per il primo episodio Altrimenti lo finiamo tutto di fila Presi dalla curiosità Quanto fa 17 più 12? Dimmelo tu 29 Sì brava E quindi vanno qui? Sì Però come li muovo? Non lo so Forse con il cacciavitino Allora qua ci può servire Non vedo nulla Manco io Toglimi la corda Aspetta la scala no Allora passa Secondo me Mi sto filando troppo di te Ok e questo è un errore che ho compiuto diverse volte nella vita E ogni volta E ogni volta è sempre andata fine allo stesso modo Quindi io scommetto che adesso tocco da qualche parte E funzionano i fili Ho visto Ho visto sì No ha funzionato Sicuramente Guarda Sicuramente Guarda Guarda Che hai fatto Muoviti dai Ammetti Ammetti che hai sbagliato Voglio sentire in pubblico Che non hai cliccato Che stai passendo Mi stai prendendo in giro Mi stai trollando Ah non lo vedi che si è bloccato Per quello non ti capivo Io guardavo qua Si era bloccato E dicevo Che cavolo sto dicendo Mi sta prendendo in giro Abbiamo buggato il gioco Ah Per quello dicevo Ok 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 Ho visto tutta una trollata Perché vedevo ancora la schermata ferma E non ti capivo No davvero Bastava cliccare i fili E cliccare sul punto E li attaccavi Capito Quindi l'avevo davvero fatto Infatti Ho fatto vedere da qua Per quello non ti capivo Allora Secondo me È destino Ci stai dicendo Fermatevi qua Se no Crolla il titanica Vuoi fare una rima Il titanica È perché vuoi fare una rima Ma non ti arriva Non faccio che arriva Ascolta Se scatto Quando diventerai tu Era molto imbarazzante La ragazza delle battute Le potrai fai tu Fino ad allora le fa step Ma lo spero Che lo diventerà Per la salute mentale di tutti Bene che si è lì Se ci lasciateci un like Questa è la prima volta Che vi ho avuto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti